E' stata un'edizione del tutto speciale, la diciottesima della Notte dello Sport, storica iniziativa che dà il via ufficiale alla stagione agonistica, organizzata dall'Agenzia di Servizi Giornalistici Nero su Bianco, con il patrocinio di Comune di Senigallia e Coni Marche, e la partnership di BCC di Pergole Corinaldo, Conad City Senigallia e Associazione Cuori di Velluto, sponsor etico dell'evento. Vista l'impossibilità di svolgere in piazza una manifestazione che ogni anno richiama centinaia di persone, la continuità è stata garantita grazie ad una diretta Facebook che ha fatto registrare numerose visualizzazioni. Pur senza pubblico, i lanci della diretta sono stati comunque realizzati dai consueti quattro presentatori, Fabio Girolimetti, Giacomo Valeri, Matteo Magnarelli e Giovanni Girolimetti, dalla altrettanto consueta sede del foro annonario, a mantenere intatta una lunga tradizione che lega l'evento a questo suggestivo angolo della città. A fare gli onori di casa, il vice sindaco Maurizio Memè. Un grazie va proprio a tutti quelli che permettono alle 33 società sportive, ma anche a qualche altra società che in qualche modo partecipa ad altri sport, di tenere alto il nome di Senigallia, perché grazie a tanti volontari che si prestano e si dedicano, anche gli sport, quelli che non hanno una rilevanza nazionale o che comunque non sono professionisti, hanno e danno la possibilità a tutti di accedere a un'attività che rende le persone, le far star bene sia psicologicamente ma anche fisicamente e questo non è da poco. Non ha fatto mancare la sua presenza anche Fabio Luna, presidente di Conimar, che è l'altro ente che patrocina l'iniziativa. È una regione sicuramente vivace, è una regione che sa esprimere tante eccellenze anche a livello di società, ma Senigallia è sicuramente un qualche cosa di particolare, perché ha un numero molto vasto di società che praticamente rappresentano un po' tutto il movimento sportivo che appartiene alla famiglia del Comitato Olimpico. Pertanto complimenti ai vari dirigenti che presiedono queste società perché non è stato mai facile, ma sicuramente nell'anno 2020 hanno vissuto e stanno ancora vivendo una esperienza unica che sicuramente il mondo sportivo ne poteva fare sicuramente a meno. Ma ancora una volta le grandi protagoniste della serata sono state le società sportive senigalliesi. Ben 33 quelle che hanno preso parte alla Kermess, delle più diverse discipline e di ogni livello, dai dilettanti puri ai professionisti delle formazioni più blasonate. Con il ritmo smart e veloce tipico dei social hanno quindi parlato dei propri programmi ed obiettivi i rappresentanti di Nirvana Club, con Loredana Papparelli che ha presentato una clip con l'esibizione dei suoi ragazzi, Atletica Senigallia con il suo responsabile tecnico, l'olimpionico di marcia Carlo Mattioli, Polisportiva Senigallia con la presidente Sabrina Damen che ha parlato della fortissima squadra paralimpica di nuoto, Senigallia Basket 2020 con il general manager Francesco Alessandroni sulla preparazione all'esordio in Serie D, Tennis Team Senigallia con lo storico maestro Peppino Bevilacqua, Arcivolle e Vallone con il presidentissimo Gianfranco Pacenti, Seilin Park con l'istruttore di vela Giacomo De Carolis, Real Vallone Panelli, altra squadra di calcio che esordirà in un campionato federale, a parlare il presidente Marco Stefanelli, Ludia Vittoria Jiu Jitsu con il responsabile Roberto Paradisi accompagnato dall'istruttrice Jessica Bruciati, Capoeira Nossa Nassau con Matteo Curzi a presentare una piccola esibizione dei suoi allievi, Basket Roosters con uno dei suoi cestisti Tommaso Conti, Nordic Walking Anwi Senigallia con il primo istruttore del centro Italia Roberto Paganini, Pallacanestro Senigallia Golden Gas con il nuovo coach Riccardo Paolini ed il capitano Mirko Pierantoni a preparare l'ennesima avventura in Serie B, AS Senigallia Calcio con il DS Massimiliano Frulla, Team Roller con Mauro Guenci che non è riuscito ad abbandonare i patini nemmeno durante il collegamento, Never Stop Run con il presidente atleta Tommaso Conz, Planet Fitness con Tony Rollo che ha proposto una performance della sua squadra, Polisportiva Senigallia Ritmica con l'esibizione presentata dal responsabile Elena Montesi, Badminton Senigallia con l'attivissimo presidente Alessandro Bailetti, CT Olimpia Marzocca con in collegamento Roberta Boldreghini, Filippo Sartini e Roberto Giacometti, FC Vigor Senigallia con il mister Aldo Clementi che ha parlato della squadra che guarda con ambizione al prossimo campionato d'eccellenza, Luna Sports Academy, altra società di pattinaggio con il direttore tecnico Luca Bernacchia, Basket Giovanile Senigallia con il coach Andrea Peverade ed il DS Andrea Piangerelli, Olimpia Calcio Marzocca con il mister Dino Giuliani ed il capitano Michele Asoli in vista del campionato di promozione, All Blacks Tecondu con l'autentica anima del movimento Andrea Aquili ed i suoi ragazzi in palestra, Maanar Danza del Ventre con l'insegnante Bruna Scataglini che ha introdotto una suggestiva esibizione, Scicleb Panei con il presidente Gabriele Gimignani, Senigallia Tennis Club con il direttore tecnico Stefano Giovannelli, gli arbitri senigalliesi della sezione Aia di Ancona con il consigliere Luigi Albani e l'arbitro nazionale Fabrizio Ricciardi, US Pallavolo Senigallia che recentemente ha festeggiato il suo ventennale con il direttore tecnico Roberto Paradisi, Basket 2000 Senigallia con il presidente Bruno Pierpaoli e la capitana Lisa Catalani ancora protagonista in Serie B femminile, Audax Sant'Angelo 1970 appena risalita in C1 con il presidente Tiziano Tarsi a parlare, e infine la polisportiva Senigallia che ha chiuso con il classico judo show preparato dal maestro Michele Sabatini. Un significativo spaccato del movimento dunque, una bella vetrina per quanti fanno sport ad ogni livello a Senigallia. Tra gli ospiti della serata anche i partner ad iniziare dalla BCC di Pergole Corinaldo che conferma la sua attenzione verso il movimento sportivo e verso Senigallia. Anche quest'anno purtroppo difficile, come ben sappiamo, abbiamo voluto mantenere la nostra vicinanza a quelle che sono tutte le realtà sportive, giovanili e che un po' rappresentano quella connettività sociale. E quindi è una delle missioni che abbiamo come banca di credito cooperativo e abbiamo voluto anche quest'anno, nonostante gli sforzi fatti per sostenere la sanità eccetera, riconfermare la nostra presenza e il nostro sostegno a tutte le attività sportive, specialmente anche qui Senigallia che è una piazza molto importante per la nostra banca. Dopo aver collaborato alle ultime edizioni, da quest'anno è sponsor etico della Notte dello Sport l'associazione di volontariato Cuore di Velluto, una onlus molto attiva che si occupa in particolare di prevenzione delle malattie cardiovascolari. Il Cuore di Velluto ha come scopo principale quello di diffondere la cultura, la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Lo facciamo articolandoci in cinque pilastri importanti, il primo dei quali è diffondere la cultura nel territorio. Quindi organizziamo eventi, lo abbiamo fatto nel corso degli ultimi anni, esaminando la malattia cardiologica nell'atleta, nel bambino, nella donna, nella seconda giovinezza. Siamo presenti nelle scuole dove i nostri dottori cercano di inculcare ai nostri ragazzini la corretta alimentazione e il corretto movimento. Siamo vicini alle persone che, ahimè, hanno avuto un evento attraverso, li assistiamo in un percorso di riabilitazione. E siamo naturalmente vicini allo sport dove, con il nuoto, con la polisportiva Senegallia, con il nuoto perolimpico, ci proponiamo come sponsor etico ed essere presenti con il nostro cuore vicino al cuore degli atleti. La diretta è scorsa piacevole e veloce, grazie anche all'ottimo lavoro di staff dei quattro presentatori, completato da DMP Concept e Crealia, che hanno curato tutto l'aspetto social, dalla grafica alla promozione, dalla strategia comunicativa, fino alla realizzazione della diretta e all'apporto di grande professionalità di Simone Zezza e Trezeta Video per il coordinamento di riprese e montaggio. Il video, che nella diretta è stato rilanciato anche sulle pagine Facebook di Filsenigallia, il sito istituzionale del Comune per il Turismo e del portale di informazione Vivere Senigallia, che conta oltre 20.000 followers, ha rapidamente riscosso un gran numero di visualizzazioni ed è ancora presente e disponibile su Facebook nella pagina di Nero su Bianco Agenzia. Una tradizione lunga, 18 anni, e dunque continuata anche in questo periodo così complicato. Appuntamento ora con la Notte dello Sport per il prossimo anno, con l'auspicio di poter tornare tutti insieme in piazza con i tanti protagonisti del movimento sportivo senigalliese.